signori le coppie per cortesia allora spinoni italiani Weimarunner Bull Mastiff Alaskan Malamut Rhodesian Ridgeback Pastore Maremmano Abruzzese Segugio Italiano Appelo Raso Cocker Spaniel Inglesi Cavalier Lagotti Carlini Neri Zwerpincher Rossi Volpino Italiano e una coppia di Spitz Nano e una coppia di Spitz e una coppia di Spitz Allora, coppie maschio e femmina appartenente allo stesso proprietario o allo stesso allevatore Abbiamo una coppia di spinoni italiani di Verma Runner, Bull Mastiff, Alaska Malamute, Rhodesian Ridgeback, Pastore Maremmano Abruzzese, Segugi italiani a pelo raso, Cocker Spaniel inglesi, Cavalier, e qua una coppia di lagotti romagnoli, a seguire due Carlini neri, due Zarpincher rossi, poi Volpini italiani e Spitz Nani. Allora, abbiamo la prima coppia selezionata, quella dei Verma Runner, a seguire i Bull Mastiff, gli Alaskan Malamute, i Cocker Spaniel inglesi, i Zwerpincher e gli Spitz Nani. Allora, torniamo tutti al posto di fronte al tavolo della giuria Signora Allora, un giro tutti insieme Weimar Runner, Bull Mastiff, Alaska Malamute, Cocker Spaniel, Zwerpincher, Spitz Nani. Allora, per le coppie abbiamo al terzo posto la coppia, una coppia di cani piccoli, Zwerpincher. Al secondo posto, invece, è una coppia di cani grandi, Bull Mastiff. Vincono dei cani da caccia, Weimar Runner. No, bisogna Hilter. No No A Grazie per la visione!